Il pomeriggio di oggi l'onorevole Giampiero Bocci, sottosegretario di Stato con delega al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha presenziato alle cerimonie di intitolazione di due distaccamenti cittadini e dell'Aula di Formazione dei Vigili del Fuoco a tre operatori del 115 morti sul lavoro. Il distaccamento del quartiere Carrassi in via Tenente De Vito è stato dedicato alla memoria di Ignazio Minervini, quello accanto alla Fiea del Levante in via Orlando Vittorio Emanuele 53G alla memoria di Vittorio Pizzimenti ed infine la sala di formazione del Comando Provinciale di Bari in via Tuputi 52 alla memoria di Donato Mosto. Grazie. Grazie. Grazie.